Andrea Caponi è finalmente un calciatore del Pisa, l'ufficialità oggi, inizia l'avventura? Sì, inizia oggi, è stata una trattativa lunga, ora ci siamo, sta a me dimostrare di poter entrare in questo gruppo forte, di poter dare una mano a questa squadra per raggiungere l'obiettivo. Si realizza per te un sogno, quello di vestire la maglia nerazzurra? Insomma, se dai, ero 27 anni, lascio Ponte d'Era che per me è stata una cosa, insomma, sono stati quattro anni fantastici, ho sempre un bel ricordo di Ponte d'Era, è una squadra, una città che rimarrà sempre di me, comunque arrivo a Pisa con un grande entusiasmo, è una piazza che parla da sola e speriamo di contribuire, speriamo di far bene, insomma, di far vedere che posso essere un giocatore anche da Pisa. Arrivi infatti nel momento che inizia ad essere cruciale della stagione, l'ambizione è quella di centrare il primo posto? È chiaro, è chiaro, sì sì, l'ambizione è questa e ci metterò tutto me stesso per questa maglia. In benvenuto e in bocca al lupo.